Le difficoltà del mercato dell'edilizia, la scarsità di imprese, di manodopera e l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, indotti anche dal super bonus 110%, incidono sull'andamento della ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del centro Italia, che registra nel terzo trimestre 2021 una crescita più contenuta delle domande di contributo per gli immobili danneggiati e delle richieste approvate. La struttura commissariale del sisma 2016-2017, nel giorno del quinto anniversario del terremoto che ha colpito Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, ha diffuso i dati relativi alla ricostruzione. Tra giugno e settembre sono state presentate agli uffici speciali delle regioni 438 richieste di contributo di ricostruzione a fronte delle 528 del trimestre precedente. Nel trimestre luglio-settembre sono stati emessi 765 decreti di contributo a fronte dei 1.407 del trimestre aprile-giugno e dei 1910 del primo trimestre dell'anno. Nonostante la minor crescita nel terzo trimestre, i dati del 2021 però confermano e consolidano il deciso cambio di passo della ricostruzione avvenuto negli ultimi mesi del 2020. Da gennaio a fine settembre sono state approvate oltre 4.000 richieste di contributo che hanno consentito l'apertura di altrettanti cantieri, oltre un terzo di quelli aperti dall'avvio della ricostruzione. In questo periodo i cantieri che hanno concluso i lavori sono stati 1.691. Al 30 di settembre scorso si registravano 5.385 cantieri ultimati rispetto agli 11.000 autorizzati ed aperti. Nel 2021 si registrano avanzamenti importanti anche nella ricostruzione pubblica. Nel terzo trimestre dell'anno in particolare sono state erogate le prime somme pari a 67 milioni di euro per il finanziamento delle opere pubbliche previste nelle nuove ordinanze speciali. Le erogazioni effettive, a valere sulla contabilità speciale del commissario, erano pari a fine settembre a 468 milioni di euro a fronte dei 265 milioni di fine 2020. Considerando tutte le opere pubbliche, a fine settembre risultavano conclusi e in fase di collaudo 351 interventi a fronte dei 253 del 2020. Si tratta in particolare di 153 opere pubbliche in senso stretto, 100 chiese ed edifici di culto, 81 interventi realizzati dagli SMS solidali e 17 delle 20 scuole inserite nel progetto speciale. Secondo il commissario straordinario Giovanni Legnini, ammonta oltre 27 miliardi di euro il danno stimato per la ricostruzione del centro Italia terremotato. Per la ricostruzione privata, spiegato Legnini, occorreranno oltre 20 miliardi. Per la pubblica 5 miliardi e 100 milioni e un altro miliardo e mezzo servirà per recuperare le 3.000 chiese danneggiate. Adesso, ha aggiunto il commissario, l'obiettivo è completare il censimento dei danni entro il 31 di dicembre 2021. In particolare per il patrimonio edilizio privato sono pervenute circa 58 mila domande di prenotazione al contributo a fronte di circa 80 mila edifici danneggiati, con un delta di 22 mila edifici che si conta di recuperare almeno in minima parte, stimolando, ha concluso Legnini, una nuova presentazione delle domande in modo da arrivare ad oltre 60 mila edifici da recuperare.